Dottor Rostuni, ovviamente in un'occasione come questa, come non ricordare proprio Pierluigi e Matteo insieme a tutti gli altri laboratori? Una cerimonia importante, io ringrazio l'ANMIL che ogni anno, purtroppo da quando è accaduto quella trista vicenda che tutti conoscono, vengono a rendere omaggio ai nostri defunti e in particolare a tutti in Genem, ma in particolare a Matteo e Pierluigi. Come ho detto in tantissime occasioni, è una ferita ancora aperta per noi, una ferita lacerante che ci fa tanto soffrire e ci ha provocato tantissima dolore, è una cosa che non potremmo mai dimenticare, in queste circostanze dobbiamo sempre ricordare del loro familiare, di quello che hanno sofferto e stanno tuttora soffrendo, perché sopravvivere ai figli è una cosa impossibile, molto difficile, quindi a loro va tutta la nostra solidarietà. Erano due ragazzi, l'ho detto, in tante circostanze, io non ho avuto la fortuna di conoscerli, ma mi hanno descritto, mi hanno parlato di loro, basta vedere il famoso video dei figli delle stelle, che fa capire qual era l'animo di questi poliziotti, poliziotti per bene, gentili, carbati, che credevano molto nel loro lavoro e hanno perso la vita in maniera veramente barbara.